una buonissima serata ben ritrovati come sempre puntuali alle 19 il momento di stare insieme qui ad angoli lo faccio sempre anche questa sera in apertura vi ricordo ancora una volta il nostro indirizzo di posta per restare sempre in contatto con la nostra redazione basta inviare una mail ad angoli chiocciola espansionetv.it apriamo questo appuntamento parlando di una mostra davvero straordinaria imperdibile qui con noi ce la racconta direttamente lorenzo puglisi ciao lorenzo benvenuto e grazie per essere qui buonasera a tutti grazie a voi di questa occasione sono felice di essere qui a como allora lorenza una mostra davvero molto importante con la quale tu vuoi anche celebrare a 500 anni dalla scomparsa di un grandissimo personaggio della cultura italiana ovviamente stiamo parlando di leonardo da vinci c'è un omaggio straordinario che all'interno di questa mostra insieme a tutte le altre opere sicuramente ha significato particolare è così certamente al mio lavoro è un timido tentativo di utilizzare questa struttura di un dipinto così importante per la nostra cultura per tutto il mondo occidentale e a me interessava poterlo mettere in un luogo particolare il più vicino possibile al cenacolo originale e questo mio progetto con tutte le fatiche connesse è partito più di due anni fa ed è stato poi una sorpresa e una gioia accorgermi che era proprio l'anno del cinquecentenario della morte di leonardo ma la cosa più bella è che c'è questa risposta da parte del pubblico che di tutto insomma anche di chi si occupa di di arte contemporanea a questo mio tentativo a questo lavoro così ambizioso in qualche modo ma anche rispettoso e che cerca per male che vada di far ricordare del fatto che dall'altra parte del muro c'è questo questo dipinto straordinario sperimentale perché quello che non tutti sanno è che leonardo da vinci in questa occasione tentò come in tante altre essendo un vero cercatore tentò una tecnica nuova a secco per avere la possibilità di lavorare le sulle figure più a lungo che nella tecnica fresco e così facendo dopo pochi anni il dipinto era già in disfacimento ecco e quindi un precursore uno che osava non certo uno che si preoccupava ecco come oggi un po è più comune preoccuparsi dell'immagine più che della sostanza ecco spero non sia il mio caso assolutamente no ne siamo certi e tra l'altro ricordiamo che questa mostra si trova appunto a milano in una location molto particolare la basilica di santa maria delle grazie presso la sacrestia del bramante sarà a disposizione fino al 28 di aprile quindi avete ancora qualche giorno per poterla visitare e davvero cogliere da vicino queste queste emozioni così particolari che lorenzo vuole comunque far emergere ma partiamo anche dall'inizio della tua passione quando ti sei avvicinato appunto all'arte e soprattutto perché tra le varie forme la tua è questa allora intanto vorrei dire che si tratta di pittura che è un è una disciplina visiva come la scultura come molte altre anche il cinema e che si tenta di fare un lavoro che poi si vedrà se ha un qualche valore in assoluto anche relativamente per per quanto riguarda il mio percorso è partito molto lontano molto tempo fa e ha avuto delle sfortune mercantili prolungate cioè non ho venduto un quadro per quasi 15 anni il perché è semplice perché ho lavorato su quella che per me è l'estetica la seduzione del barocco questa pittura così scura con le figure che escono in qualche modo da dal mistero della della buio della notte è inconfondibile il tuo stile lo vediamo anche dalle immagini che stanno scorrendo vorrei che tu ce lo raccontassi un po più a fondo per coloro che non sono così competenti non sanno riconoscere ho avuto molta fortuna e per me il tentativo importante era la manipolazione della materia pittorica dell'olio che ha questa sua peculiarità di essere così malleabile e sedotto da da come come dicevo dalla pittura barocca ribeira soprattutto caravaggio velasquez rembrandt questo segno così selvaggio che poi rimaneva dentro un canone il canone della figura perché ancora non era stata inventata la macchina fotografica ecco io noi abbiamo questa fortuna di poter uscire da questi canoni ma secondo me bisogna rimanere con un piede molto ancorato in quella che è la tradizione cioè in quello che è ciò che si porta nel tempo di vero non so se il mio caso ma per me e qui vediamo ecco questo è un lavoro che è in sagrestia e tratto da da un piccolo quadro di goia che si intitola cristo nel monte sul monte sul monte degli olivi si che rappresenta il momento del dubbio ecco la mia raffigurazione lascia apparire dall'oscurità solo le mani e i volti magari neanche tutti quelli che sono dentro il quadro questo perché se io guardo un grande quadro del passato come ad esempio le sette opere della misericordia del caravaggio io non vedo tutto l'insieme ma penso che succede a tutti sia come una percezione di alcune parti più forti più intense nel mio caso nelle sette opere della misericordia è questa s di luce che si tracciava tra la mano dell'angelo la testa dell'angelo e la figura in basso appunto la forza della misericordia che scende sull'essere umano in determinate condizioni e ecco lavoro in questo modo rubo la scena pittorica creata da un grande uomo del passato un grande pittore un grande artista infatti e rubo questa scena già costruita in maniera così perfetta se mi ha sedotto se mi ha toccato se mi ha colpito e cerco di restituirla filtrata da questo sguardo che vorrebbe ambire all'essenzialità quindi solo le parti più significative dove poi l'occhio in realtà si posa anche in un quadro per così dire completo e così facendo partendo da piccole teste passando per la pittura di ritratto la tradizione del ritratto con la figura in posa con le mani giunte sono arrivato appunto alla scena il mio primo esperimento è stato dedicato a leonardo a parigi in una mostra per me importante con una tela di cinque metri per un metro e mezzo e oggi siamo qui alla sagrestia del bramante a milano con una tavola di pioppo di sei metri per due dove di nuovo il tentativo viene riproposto perché secondo me è importante provare riprovare insomma quando finisco un quadro non non sono così soddisfatto lorenzo affrontare un tema così importante come quello appunto dell'ultima cena quale tipo di emozione ma anche quale tipo di perplessità non voglio dire difficoltà ma ci sono stati dei momenti nei quali hai messo in dubbio magari la strada corretta da percorrere beh io posso dire che è sempre un pretesto per indagare l'essere umano in generale e per me la questione è sempre la stessa cioè una manipolazione della materia dell'olio tentando di mantenere una distanza e lasciando la possibilità di osservare quello che accade e avendo una direzione in questo caso la direzione è uno schema di 13 teste con delle mani che abbiano un'armonia e che ecco francamente non so quello che accadrà perché se no non sarebbe per me pittura quindi cerco di far cerco di non fare lascio che le cose piano piano si adagino come devono e per quanto riguarda le teste la materia pittorica cerco questo vortice che sento dentro di me dei pensieri dei sentimenti e che si materializza con questa pittura così materica che qualcuno di generoso dice taccia o dice essere simile a quella di bacon mentre bacon è stato un grande maestro a me seduce solo un certo tipo di per me è un tentativo di apparizione dal nulla mi parso che negli anni il mio il mio lavoro di pittura sia diventato più denso e sia diventato più più solido come se all'inizio fosse molto slavato e lentamente come se qualcosa dentro di me prendesse corpo ecco per me questa è la direzione poi tutto il resto sono complimenti fuori luogo illazioni che non c'entrano e quindi non immagini un percorso ideale da parte del visitatore per cogliere gli aspetti più significativi come tu vivi con grande semplicità e libertà forse vuoi che accada lo stesso anche a chi visita e visiterà la tua mostra i miei desideri come quelli di tutti sono una bella cosa ma io spero e credo da quello che mi dicono è che questa pittura così rarefatta abbia la caratteristica di lasciare interdetto lo spettatore quel tanto che basta a spiazzarlo da fargli guardare veramente quello che c'è e quindi in qualche modo funziona e questa la sua la sua capacità e non dipende neanche da me ecco perché una cosa che amo sempre dire quando inaugura una mostra o in generale che la meraviglia della pittura è che si tratta di un'azione che si è svolta nel passato e non ha nessuna utilità il suo artefice mentre è necessario uno spettatore per renderla viva per farla essere siamo quasi ai saluti alla fine del tempo a nostra disposizione purtroppo perché chiacchierare con te è molto interessante quali sono i tuoi progetti dopo questa mostra? beh subito ci sarà un nuovo tentativo di rifare questo dipinto su una dimensione analoga se non leggermente più grande perché per me è importante ritentare subito di andare più a fondo e ci sarà l'occasione pare di una mostra al Museo Storico Navale di Venezia durante la Biennale poi ci sarà una mostra a Londra nella cripta della chiesa di San Pancras in Houston Street o Road durante la Fiera Friese quindi molto vicino alla sede di Friese e poi a maggio sono stato invitato al Latvia National Museum al Riga Bors di Riga a fare una grande mostra che aprirà appunto dopo una mostra di Ian Fabre quindi per me è una cosa eccezionale certamente prego prego ti ho interrotto? no tantissimi i tuoi progetti prima di salutarti vorrei una tua battuta approfitto della tua presenza qui con riferimento a quello che è accaduto pochi giorni fa a Notre Dame ovviamente è un patrimonio dell'umanità e siamo rimasti tutti attoniti di fronte a quello che è accaduto cosa ne pensi? io vado a Parigi lavoro con una galleria a Parigi amo andare a Saint Germain de Pré in quella chiesa meravigliosa c'è un silenzio molto forte e sono andato più volte davanti alla facciata di questa chiesa di Notre Dame che è straordinaria è un esempio di vero sapere architettonico perché trasmette qualcosa come il cenacolo non saprei dire altro si sente non mi è dato altro di capire il fatto dell'incendio devo dire che c'è questo mondo in cui viviamo c'è questo sensazionalismo è bruciata una volta verrà ricostruita un miliardo di euro, mille euro, dieci euro, non mi importa la facciata è intatta le cose non sono fatte per durare ma la cosa più bella è che quando le abbiamo non le sappiamo apprezzare e poi non appena qualche cosa si incrina si inizia a fare un gran parlare penso che ci siano questioni come l'essere umano che deve essere al centro della nostra vita perché non ci rendiamo conto di quanto noi siamo gli altri e un giorno poi questo sarà più chiaro per tutti io saluto e ringrazio Lorenzo Puglisi per essere stato qui ad Angoli per essersi raccontato grazie a te, grazie a voi grazie anche a voi rimanete lì perché tra poco Angoli torna con altri ospiti grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te